arrivati nel 2019 le tecnologie delle scarpe sono arrivati appunti veramente mai pensati finora però in questa grande corsa all'innovazione alla tecnologia la performance c'è ancora qualcosa che riguarda la classicità l'artigianalità che è molto importante e scarpa in questo senso è veramente ancora unica e c'è un modello che veramente più di tutti rappresenta un po questa cosa che fa parte della linea lifestyle di scarpa quindi nel quotidiano ma che ha la storia della scarpa della calzatura da trekking e la storia dei mastri artigiani del pellame in cui scarpa si è contraddistinta fin dall'inizio con parisotto padre che era proprio un grande artigiano della pelle signore e signori vi presento la anfibio modello totalmente made in italy fatto ad asolo nel cuore della sede dei scarpa e presenta una delle cose più classiche in assoluto la suola vibra la suola cararmato la sola che è stata inventata da vibra anche poi si ritrova su tantissimi modelli di calzature questa fu la suola con cui vita le bra mani nel 1937 proprio iniziò la sua carriera e la proposta per una scarpa d'escursionismo che fu usata proprio su delle scarpe insieme a dettore castiglioni con cui fecero una prima ascesa ed usarono proprio questo modello qui questa forma qui vi ricordo che abbiamo tra l'altro un video proprio realizzato per l'utilizzo delle suole moderne tutte le aziende che stanno dando si gara sulle nuove tecnologie potete cliccare questo link qui sopra per andare a consultare questo argomento questo naturalmente se lo state vedendo su youtube lo avete già visto se è su un altro social su un altro canale forse lo alleghiamo da qualche parte andate a cercarlo quindi opera d'arte allo stato puro classicità proprio voluta al cento per cento suola classica vibra tomaia impellame wasner tutta quanta cucita a mano una delle cose più importanti della riconoscibilità dell'altissima qualità manifatturiera di questa scarpa è l'impuntatura norvegese la cucitura norvegese che è un tipo di cucitura che teoricamente si chiama così perché appartiene ai popoli nordici nello sviluppo delle scarpe ma è soprattutto utilizzata in italia solitamente si tratta di un filo di lino che viene passato con un'impuntatura doppia viene passato per prima dalla suola e la tomaia tra la soletta e la tomaia e poi viene passato tra la tomaia e l'intersuola ok in questa maniera sia una resistenza altissima si ha una proprio incollatura totale la fodera interna della scarpa invece è completamente in cuoio tutta in cuoio vero cuoio e un'altra apprezzabilissima opera manifatturiera è proprio la cucitura della vaschetta che tutta quanta fatta a mano per quanto riguarda le specifiche tecniche della scarpa potete consultare il link bfmontageshop.com dove abbiamo la scheda con tutte le caratteristiche pesi i materiali eccetera tutto il tempo che ho parlato penso che non avete potuto fare a meno di notare della linea della scarpa che comunque appartiene ad altri anche altre aziende molti ricordano l'humberjack comunque quel tipo di impuntatura e cucitura classica viene chiamata questa scarpa la scarpa da ingegnere perché è una scarpa che ha un pellame di una resistenza unica però per andare in cantiere magari ecco l'ingegnere invece di montare le scarpe antinfortunistica classiche cercava un prodotto che fosse molto resistente ma in qualche maniera abbastanza elegante da poter portare anche sul vestito quindi se non siete degli ingegneri non ve la potete comprare mi dispiace no vabbè dai pure se siete dei geometri architetto non esageriamo no vabbè dai no vabbè dai